Salve a tutti ragazzi, sono sempre Iomenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, siamo tornati qui con la carriera allenatore con il nostro Colchester Vi ringrazio signori per tutto il supporto che state dando a questa serie, per la partecipazione nei commenti Perché realmente mi diverto la faccia a leggere i vostri commenti, sono realmente super divertenti Quindi continuiamo con la nostra scalata, diciamo così, e abbiamo subito un'offerta per il prestito Come ben sapete siamo in periodo di calcio mercato, questa è un'offerta per il prestito per Alfie Phillips Che andiamo ad accettare, il West Bromwich tra l'altro è una bella squadretta, non so se Alfie Phillips giocherà però Noi nel dubbio accettiamo, come detto siamo ancora in periodo di calcio mercato e siamo un pochettino anche in balia degli avvenimenti Nel senso che non abbiamo un piano preciso, o meglio, non abbiamo un piano di azione diretto Perché siamo molto a seconda degli sviluppi di quello che accade, semplicemente, non so neanche se mi sono spiegato bene Nel senso che avevo messo a seguire Morelos, aspettiamo di vedere il suo resoconto per poi magari attivarci sul mercato Per quanto riguarda Azoro, onestamente, credo ci possa servire qualcuno di più pronto e non un giocatore che sì, sicuramente ha un buon potenziale Che sì, può ancora crescere, ma non so se ho il tempo per far crescere Azoro, ragazzi Perché io voglio far crescere anche altri giocatori, quindi non lo so se mi conviene puntare su di lui Ecco Morelos, secondo me comunque almeno 80-81 di overall iniziale può avercelo, secondo me ha dei dati mostruosi L'altro giocatore che veramente volevo prendere, ma ormai lo sapete, è Luis Suarez, ma per il momento non è acquistabile Quindi o prendiamo subito Morelos, o aspettiamo poi il prossimo anno sia per Suarez che per Morelos Comunque, aspettiamo, ragazzi, vediamo un po', poi anche nel caso di vendere Sikan Sono cresciuti i miei giocatori nel frattempo, durante questi ultimi allenamenti È cresciuto Scott, è cresciuto Portius, è cresciuto Hikey, adesso iniziamo ad avere veramente una bella squadretta Comunque, se avviciniamo la prima partita dell'episodio abbiamo un'offerta per il trasferimento per Sikan Allora, onestamente allo Sheffield non lo vorrei dare, se devo proprio essere sincero, ragazzi Se lo do, lo do all'estero, fuori dall'Inghilterra Quindi rifiutiamo, perché so già come funzionano queste cose, ragazzi So come funziona, funziona che quando incontreremo lo Sheffield si fa 4 gol Sikan Perché secondo me, usato dal computer, può essere un ottimo giocatore Ci andiamo a giocare questa partita contro il Sunderland E vediamo un attimo se fare dei cambi Perché siamo... no, non siamo stanchi in realtà Siamo attivi, belli puliti Faccio dei cambi io, magari Anzi, ne faccio solo uno Dentro Senior al posto di Lorenz Per il resto ci portiamo dietro il classico Longstaff E possiamo andare in campo così, dunque Sempre sul pezzo, signori E forza Colchester Mi avete detto, tra l'altro, anche di far giocare di più Ethan Davis Credo lo farò, credo a questo punto magari di dare più opportunità magari a Ethan Davis Piuttosto che a Woodman Perché nello scorso episodio realmente ha fatto qualcosa di incredibile quel portiere Occhio Grigg Wood su di lui, proviamo la chiusura Ambelton C'è il gol del Sunderland Dopo neanche dieci minuti Segna Grigg Il numero 22 Gol inaspettato ragazzi Semplicemente perché pensavo di essere in traiettoria Qui eravamo riusciti a chiudere con Wood Pallone giocato dietro per Ambelton Che gol strano Riesce a piazzarla bene Nell'angolino sul primo palo Will Grigg Siamo già costretti a inseguire Signor Non è male la palla per Scott Attenzione Scott Prova a liberarsi Scott Prova il destro Scott Mamma che parata del portiere Un vero bolide Ma che potenza tiro ha Scott Questo è fallo però, signor direttore Adesso non è che possono fare quello che vogliono, vero? Bravo Stevenson Come al solito è un'interdizione Prende campo Sabi Aspetta l'avanzata di Curtis Signor Invece viene servito Scott Si chiude il triangolo Sabi col mancino McLowlin Riesce a metterla in calcio d'angolo Altra occasione Senna Johnstone Prende campo Occhio a Johnstone Non lo fermano In profondità per Sabi Arriva in supporto anche Cedric Suarez Può metterla in mezzo morbida Non ci arriva nessuno Incredibile ragazzi Il primo tempo si conclude così Con il Sunderland Che tira mezza volta in porta Ma in vantaggio 1-0 E il Colchester Che continua a sprecare Io l'unica cosa Che mi sento di fare È che dato che il Sunderland Ha una difesa Realmente molto chiusa Mi sento di passare Al 4-2-4 Per cercare di Allargare questa difesa E provare qualche Inserimento centrale Sunderland è realmente fortissimo Fortissimi Sono fortissimi ragazzi Non riusciamo a fare Assolutamente nulla E Goz Freschezza Dentro anche Longstaff Al posto di Ferguson Longstaff Sabbi C'è proprio l'inserimento Di poco appena entrato Che proprio il mancino Palla deviata E sto portiere qui Però è incredibilmente forte Anche dopo una deviazione È riuscito comunque A intervenire perfettamente Io sono realmente spaventato Io sono realmente spaventato Ragazzi Da questo Sunderland Rido per non piangere Ovviamente Non so Non so cosa dire Non so cosa dire Oggi a Sunderland Riesce tutto A noi non riesce niente Non mi aspettavo Di startare un episodio così Partenza horror Guardate che palla Ma chi è andata la palla Ahmed C'è il taglio di Scott Dopo Eh ovviamente 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 A fine partita Praticamente Riusciamo a trovare il varco Ma cosa Dove vai ad esultare Per l'amor del cielo Per l'amor del cielo Piga sto pallone E andiamocene a casa Con ste tre Pere nel sacco Finisce qui Sunderland Ci Distrugge Mi avrebbe da dire Fisicamente E tatticamente Noi in realtà Molto imprecisi Come nello scorso Episodio Cioè Onestamente Se noi siamo imprecisi Sono cacchi nostri Cioè Il Sunderland Non è stato impreciso Ha buttato dentro Tre gol Su sei tiri E bravi loro Cioè cosa dobbiamo dire Noi siamo dei cani ogni tanto Veramente dei cani Però adesso voglio andare a vedere Sto Sunderland Dov'è in classifica Sinceramente Una squadra Una squadra che fa fatica A fare quindici punti In ventotto partite Che vince due partite In ventotto partite E arriva da noi E fa Vabbè Contro di noi Fa la partita Vabbè Lasciamo perdere Può succedere Può succedere Può succedere assolutamente Nel frattempo Arriva un'offerta Da parte del porto Per James Scott Ragazzi Inaspettata questa offerta Sono sincero Quanto potremmo chiedere 16 milioni e novecento 21 anni Comunque ancora Scott Ed è un 78 Assolutamente no Può migliorare tanto James Scott rimarrà con noi Per il momento Ovviamente Cosa importante Voglio andare a cercare Sti dannati giocatori Del Sunderland Anche se Vista la posizione in classifica Mi viene da pensare Che poi non siano Realmente Così Tanto Forti Come hanno dimostrato Comunque Scoprire nuovi giocatori Non fa assolutamente Male Vabbè Grig ha La sua età Linden Goch È un esterno destro Che sembra avere Degli ottimi dati Mettiamolo a seguire Vale pochissimo Vale due milioni e nove Ragazzi Hamed 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 è quello che gli ha dato Quel pallone lì Incredibile Perfetto signori Siamo a metà gennaio Abbiamo la parita contro il Fulham Che ovviamente Ci andiamo a giocare Cosa non mi è piaciuto Nello scorso Nella scorsa partita Non mi è piaciuto Ferguson Io voglio far giocare Anche un po' Anderson Ferguson gli facciamo Fare un po' Di panca Anche se Nello scorso video Si è lamentato Fa lo stesso Facciamo Anzi Facciamo giocare Direttamente Longstaff Poco è entrato Molto bene In partita Quindi lasciamo Johnston E Poco in campo Wood Deportius Wood Deportius Andiamo in campo No 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 Ethan Davis Ethan Davis Ethan Davis Ethan Davis Ethan Davis Ricordatelo Menzo Woodman in panca Ethan Davis In campo Andiamo così dunque Sempre sul pezzo E forza col Chester Ok Bella palla per Longstaff Ikei Ancora Longstaff Per Scott Che la fa passare Scott Poi Christie Ci mette il corpo Mamma mia Era uno schema Questo ragazzi È studiato in allenamento Poi Longstaff Stevenson Ci prova col destro Stevenson Oh no ma Qui ci sono Secondo me Veramente Abitudini Molto strane In questo Col Chester Si cerca di cavalcare Qualsiasi cosa Porca miseria Questo è un FU Comunque Questo è un FU Oh no ma Non si accorge Neanche di avere Stevenson sulle spalle Vabbè Fa lo stesso Andiamo avanti Occhio al taglio I sabbi Porco cane È buona È buona È buona È buona È buona Pensavo fossi fuori gioco Ma cosa Allora è rosso Allora è rosso E beh Sì che è rosso Mi scusi Signor direttore Vai a casa Ciccio Saluto Vai a casa Ciao Moson Com'è Tutto a posto Ci vediamo dopo Sì ok Johnston può correre Sulla fascia destra Sinistra Non lo so Che fascia è Non lo so Entra in aria Johnston Attenzione Al centro per sabbi Col mancino Sharani Passava di lì Passeggiava di lì Stava raccogliendo le more E ci mette la testa Il mancino di sabbi Non era di certo potente Ma ha tirato un po' Come gli veniva Ah che bello Che siamo Oh mamma mia Ethan Davis Sabremmo noi Quelli con un uomo In meno Volevo far Sapere ragazzi Vediamo se Questa palla Andava in porta Oh sì che ci andava Bravo Ethan Ancora Portius Che oggi non fa passare Neanche le mie bestemmi Praticamente No 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 Bravo Portius Mamma mia Mamma Longstaff Dai ragazzi Ve prego Ve prego Dov'è Lawrence Dove cacchi Arola sei Lawrence Ecco ti dai Dai che sei fresco Lawrence Forza Tom Forza Tom Te prego Tom Ma tira una sabbongiata Se ne sabbi Scott in profondità Prova a dare L'ultimo strappo Scott La palla è per Signor Che la rimette in mezzo Che la rimette in mezzo Per James Scott Che la sblocca Io voglio piangere Mare di lacrime Devo bere Oddio Il pallone di Scott È magistrale Signor Senza pensarci Due volte La rimette Ragazzi Immaginate La frustrazione Di giocare Questo tipo Di partite Non abbiamo Mollato un centimetro Però E alla fine James Scott L'ha messa in porta Un bacione A te A famiglia Porca puttana Sette gol per lui 1-0 al novantesimo Raga Ciao Belli Vinciamo Ci portiamo a casa Tre punti Soffriamo Ma ce le portiamo a casa Quello è l'importante Poi Questi momenti su FIFA Accadono Ma ancora una volta Ragazzi Ancora una volta Ethan Davis Veramente Top del top Ci tiene a galla Mamma mia Quando te le porti a casa Poi sei contento Cioè mi sembra Realmente Di aver fatto Un'ora di allenamento In palestra Ragazzi Oh Andiamo a vedere Il grande Linden O Linden Gots Addirittura Un 71 Mamma mia Non starei esagerando Fratello Ah comunque ragazzi Io a questo punto Vi dico la verità Visto come sta andando Questo periodo Mi butto senza problemi Su Cantwell Perché I miei esterni Per il momento Non mi stanno Dando Il supporto Di cui ho bisogno Ma almeno in questo episodio Mi stanno facendo girare Veramente molto le scatole Quindi Un giocatore Del suo livello Può farci comodo Nel dubbio Anzi Però minchia Piede debole A due stelle Sì ma beh Chi se ne frega Al massimo si rivende Alla grandissima Grande Grande Cantwell Sì sono proprio curioso Di provarlo Però a zero ragazzi Che fai te ne privi Ma no che non te ne privi Andiamo a contattare Il Norwich Per Todd Cantwell 5 anni di contratto Per lui E le richieste Non sono neanche Troppo Alte Se devo essere sincero E riusciamo ad acquistare Todd Cantwell Con un piccolo Isborso Eccolo qua Il nostro ragazzo Che arriverà Come detto il prossimo anno A questo punto Ragazzi possiamo andare in campo Per la partita contro L'Al City Siamo fuori casa Attenzione Attenzione All'Al City James Scott Ovviamente Non Non scende Non scende Scende quasi quasi Stevenson Per questa partita Dentro Anderson E anche Cedric Un pochettino Ma scassato Poi facciamo Riposare Wood E facciamo giocare Weir Di nuovo Ethan Davis In campo Che nuovamente Mi è piaciuto Per il resto Sugli esterni Faccio fatica Faccio realmente Fatica a scegliere Io andrei con Capito perché La maggior parte delle volte Sono proprio gli esterni Quelli che cambio Perché non mi stanno Convincendo A pieno Nessuno mi sta Convincendo a pieno Andiamo con Senior E Johnstone Per il momento Poi vediamo Chi portarci dietro Ci portiamo dietro Come al solito Il nostro Longstaff E basta Andiamo in campo Così signori Sempre sul pezzo E forza Colchester Ferguson Uff Capolaetta Che è Johnstone Mannaggia Che controllo a seguire Oh Mannion La parata Sul primo palo Incredibile Ragazzi Sabby Scott Attenzione Scott Attenzione James Scott Può provare il destro A giro Lo fa ancora Mannion In calcio D'angolo Come al solito Partiamo forte Ma sprechiamo Sempre troppo Attenzione Ferguson Che lo mette in mezzo Per Sabby Questa è stata Un'azione casuale Onestamente La rovesciata Di Ferguson Era Indirizzata Verso la porta Sabby Si passa Dalle parti Di Senior Che decide di rientrare Sul destro Attenzione Al movimento Di Scott Servito Scott Non sbaglia Più Scott Porca miseria Grande James Come un vecchio episodio It's back It's back James Scott Onestamente Ragazzi Da questa direzione Cioè Da questa inquadratura Non sembrava Che il pallone Fosse entrato Perché aveva colpito In maniera strana Col mancino Morbida Rimbalzava Non ho capito niente L'importante però È buttarla dentro Qui Molto bene Il movimento A rientrare Di Senior Che comunque Se maniera pure Il mondo Però A me sembra che Tra tutti gli esterni Sia quello che Mi dà di più Non so Come mai Ho questa sensazione Bravo Ferguson On fire Oggi Ferguson Sabby Dalle parti di Johnston Attenzione Al centro c'è Scott Servito Salve Sul destro Scott Ancora Mannion Ma anche sto portiere Non è male Ma anche sto portiere non è male No 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 Direttore Non è vero Per fortuna Mamma mia Finisce con il primo tempo ragazzi Siamo in vantaggio per 1 a 0 Si è visto Credo adesso Per la prima volta Ethan Davis Ottima partita questa Realmente Diversa Dalle precedenti Da fare Moore Bella questa palla per Sabby Che taglia il campo Attenzione Sulla destra Non lo tengono Sabby prova ad andarsene Una finita Se ne va Ce la fa Sabby Sabby Col mancino Sabby È rigore È una stecca clamorosa Quella su Sabby Dopo il tiro ragazzi Ragazzi Io ho preso tanti rigori Per dei falli del genere Perdonatemi però Ma che fa il pirla questo? Ma stai a fare il pirla con me Porco zio Occhio a Evans Dai valeva Paracarro Bravo Ferguson Honeyman Questo si chiama uomo Uomo miele Occhio a Stewart C'è Portius Che è ambonito Non so per quale assurdo motivo Ware però Che dopo Le accuse di spionaggio Nello scorso episodio Sta dimostrando Di essere veramente legato A questa squadra Occhio a Ike Che viene saltato da McKenzie La mettono in mezzo E c'è il gol Proprio di Di quel paracarro Che dicevo prima Evans Che mi esulta in faccia E fa bene Beh ad oltronde Ragazzi qua Siamo stati un po' Un po' lenti noi Un po' addormentati Proprio Ware Che si addormenta Ma perché non stai zitto? Mi devi dare sto cacchio De pallone Mi devi dare Mi devi dare sto cacchio Di pallone Forza Tafari Forza Tafari Arriva poco in suo soccorso Attenzione al movimento Di Clark Harris Servito Così così Che palla è questa? Ok Clark Harris Può metterla bene in mezzo Ma ancora ago Che stress questo ago Finisce qua Finisce qua Pareggiamo 1-1 Con l'Hull City Niente ragazzi Siamo nel pieno Del momento Di sconforto Siamo nel pieno Del momento di sconforto Bene 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 Adesso c'è anche lo Stoke City In FA Cup Ottimo Ottimo Siamo nel pieno Del momento di sconforto E del momento In cui le cose Le cose non vanno Non vanno bene Ragazzi Perché D'accordo La vittoria al novantesimo Contro il Fulham Ma è arrivata veramente al pelo E comunque Non è stata una partita positiva Nonostante i tre punti Adesso ci andiamo a giocare Questa paleta contro lo Stoke Poi chiudiamo l'episodio Perché magari Facciamo riposare Facendo anzi Riposare un pochettino Il gioco Allora Resettiamo un attimo Io faccio giocare nuovamente Ethan Davis Però ragazzi Non so perché è così triste Possiamo ritornare Come ai vecchi tempi Non lo so perché Ma abbiamo giocato di un bene Quella volta Quindi andiamo in campo così Signori Sempre sul pezzo E forza col Chester Voi vi chiederete Ma Menzo cambia lì anche Un po' quelli là davanti E avete ragione ragazzi Ma per il momento Scott e Sambi Sono la mia unica certezza Se mi cade pure questa certezza È un casino È un casino Scambia Sambi E Scott Attenzione perché Collins prova a fermare James Scott Ma James Scott Fa tutto da solo La mette in mezzo Dove c'è Sambi E Manuel Sambi Torna il gol Ma cosa ha fatto James Scott Ragazzi Ha tenuto Collins James Scott Ha tenuto Collins In che modo Fisicamente Perfetto James Scott Qua Poi che palla L'ha messo in mezzo Per Sambi Ma voglio rivedere Il volo di Sambi È magnifico Voglio rivedere Guardate Ethan Davis La che esulta Spettacolare Voglio rivederlo Fabio Guardate Scott La potenza Di James Scott Bodo boom La sparata di Collins Quasi lo cappotta Poi se la va a riprendere Ricapottato di nuovo Sembrava strafatto E invece Era attentissimo E dopo 10 Neanche 10 minuti Siamo in vantaggio Con Emanuel Sambi Perché a volte Mi cade la voce così Emanuel Sambi Occhio a Lucas Mamma mia Ragazzi Che stava Per fare Plaza Cosa stava Per fare Plaza Assurdo Plaza Se ne va Per un attimo Wood Poi torna Wood Ma al centro Si è inserito In Bula Che la mette in mezzo Per Woods Ma quanti legni Che ci stanno Sto cacchio De campionato C'è il pareggio Quasi immediato Neanche 10 minuti dopo Dello Stoke Che proprio Ci taglia Come un coltello Con il burro Qua Portis Prova una mezza chiusura Ikei non fa Una diagonale Discreta E Woods Fa il più facile Dei gol Un po' come Sabi in precedenza Molto simili Questi due Questi due gol Ferguson Sabi Attenzione Sabi In seguito Sabi può andarsene Attenzione anche Linsday Su di lui Ancora Emanuel Sabi Che entra in area Che intervento di lì Ah mi sono dimenticato Di mettere a seguire Agu Porca boia Poco Bella questa palla Per Sabi Attenzione all'inserimento Di Cedric Suarez Che onestamente Mi sta un po' deludendo Bellissima questa palla Per Sabi Con il destro A incrociare il Sabi E c'è il palo Interno Mi sta dilutendo Sandrick Perché non spinge Tanto Attenzione ancora Sabi Prova ad andarsene Ma linsday Ottima chiusura Anche questa Finisce con il primo tempo Ragazzi Un primo tempo però Realmente molto divertente Devo ammettere Non è stato Frustrante Quanto magari Le partite scorse Anzi Mi verrebbe da dire Come le prime due partite È stato veramente divertente Questo Questo primo tempo Noi stiamo giocando Discretamente bene Continuiamo Vediamo un attimo Come si sviluppa La fazzenda Attenzione allo stock Plaza Prova a inventarsi qualcosa Attenzione È imbula Comunque È incredibile Non è una Non vuole essere Una lamentela Che vi stressi Ragazzi Vi rendete conto Che ogni volta Che io tiro Becco Realmente sempre Qualcuno degli altri E loro quando tirano I miei si espostano Scivano Fanno Si levano Io non capisco Io non capisco Perché non vengono Mai colpiti i miei Soprattutto non capisco Perché Me esci Tan Davis Se non ti chiedo nulla Porca paletta Sono senza parole Ragazzi Sono veramente Senza parole Sì però Non è possibile Ragazzi Che Forse il gioco Mi sta dicendo Mezzo Guarda che è meglio Se sfrutti questo Mercato di gennaio Per intervenire subito E mi sa che nel prossimo Episodio interveniamo Subito ragazzi Mi sa che nel prossimo Episodio interveniamo Subito Non so come interverremo Ma interverremo Raga C'è bisogno di far qualcosa Perché non stanno più girando le cose Non stanno realmente più girando le cose Finisce qua Siamo fuori dalla fake up E non raggiungiamo neanche l'obiettivo Che la società ci aveva Prefissato all'inizio stagione Ovvero quello di raggiungere I sedicesimi di finale Se non sbaglio Questi non erano Assolutamente I sedicesimi di finale Sono affranto Raga Per quello che avete visto In questo episodio Mi dispiace Aver perso Tutti quei punti In campionato Siamo ancora lì Per carità Mi dispiace Essere uscito Dalla fake up Vediamo un attimo L'obiettivo Ah no Per fortuna Almeno questo L'abbiamo raggiunto Erano quelli I sedicesimi Dai sta boh Non lo so A questo punto Metto in dubbio Anche Lorenz Anche se non lo posso Mettere in dubbio Lorenz Posso inserirlo In qualche Trattativa però Non so cosa fare Ragazzi Anche Oscar Jackson E Griffith Non arrivano Non arrivano Offerte per loro Datemi dei consigli Ragazzi Tanto i vostri commenti Sapete che Li leggo In questo momento Vado a fare gli allenamenti Anzi Finito questo episodio Vado a fare gli allenamenti Per conto mio Voglio andare però A Inserire Nel mercato Agu Ah questo Agu A terzino sinistro Che credo possa fare Anche il difensore centrale Eccolo Linsday Mettiamolo a seguire Ci vediamo In un prossimo video Ragazzi Sperando Vada meglio Vi ringrazio Per aver visto questo E mi raccomando Mi aspetto tanti commenti Anche Per capire un attimo Come muoversi Ve lo chiedo Poi nel prossimo video Vedremo come fare Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti